ciao a tutti innanzitutto sono Pierpaolo tornato in provincia di Pisa qui a pochi chilometri da Firenze oggi indosso un pantalone in cotone slim slim fit un paio di Clark t-shirt in cotone maglioncino in cotone poliesteri i love fashion tv in Spagna ciao mi chiamo Gabriele Bursi indosso un occhiale della Ray-Ban un maglioncino vintage una camicia di jeans di efero una maglietta di scout un jeans vintage una Hogan Rebel una sneaker I love you fashion tv Spagna ciao mi chiamo Elisa sono una blogger mio blog è thegamesuite.com e oggi indosso un capotto di os in tropia un maglione un maxi di a la foie un pantalone in pelle di H&M e un boots un po vintage di Allsense comprato a Londra e come accessorio finale un borsalino I love fashion tv Spagna ciao ciao mi chiamo Guglielmo indosso dei Ray-Ban e poi sotto indosso una giacca disegnata da me come pantaloni e scarpe marchio quintessence I love fashion tv Spagna Ciao sono Valentina e quest'oggi a Pitti indosso cappello di Zara il cappotto fatto da me sul sito calamity.it camicia romwe uno shop online pantalone Zara scarpe H&M e borsa Miu Miu I love fashion tv Spagna Ciao sono Carolina indosso un turbante di Patricia Field New York la giacca di Zara lo zaino di Prada Vintage camicia di H&M gioielli calamity e Topshop leggings romwe e scarpe Creepers I love fashion tv Spagna Ciao sono Gianluca Grilanda vivo a Milano uno showroom internazionale sulla città di Milano giacca di Lanven la felpa MSGM pantaloni pants e la scarpa church I love fashion tv Spagna viva la Spagna Ciao sono Andrea Porro e indosso un abito di Andrea Incontri per Petere e una camicia Cost Weber House scarpe Bottega Veneta scarpe Bottega Veneta I love fashion tv Spagna Hi my name is Michael Williams I'm a fashion student from New York City I'm wearing all Ralph and Massimo Dutti shoes I love fashion tv Spagna Hi I'm Alex this is Peter and Marco from Vienna and yeah Peter what are you wearing? I'm wearing actually my favorite Koldi shirt at the moment yeah with which brand Koldi 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 nice shop in Vienna you have to check it out yeah and of course my favorite ball time okay nice looks good special shirt special shirt thanks oh yeah we have to do the pantalones pantalones Koldi of course Koldi Koldi shoes shoes from Koldi everything is Koldi okay so okay nice so and what you're wearing well actually everything is also from Koldi because we are working for Koldi my outfit is Koldi too yeah yeah and we are felt in love with Koldi okay okay now check out www.koldi.at okay our home page we love fashion tv spain I love fashion tv Spagna Fabrizio Serafini Fabrizio Serafini allora parto dalle scarpe che sono le mie Serafini Dries Van Noten i pantaloni la giacca è di un mio amico Emiliano Rinaldi Fabrizio Serafini Dries Van Noten la giacca è di San Pedro Serafini Dries Van Noten i love fashion tv Spagna My name is Chaka Maiddo and I'm from London England I have a collective and we came to PT to present like the art pieces that's just behind us so what Lo che ho vestito è principalmente da la collettiva, la mia marca. Ci sono due di noi, Sam Lambert e Shaka Maido, e è chiamato Art Comes First. La biazza è di Art Comes First, la biazza è di Art Comes First, ma è manufatturato da Super Duper Hats, da Italia, e le biazze sono Art Comes First, e le biazze sono un vecchio, vintaglio, che ho comprato da Portobello Market in West London. La biazza è un'altra vintaglia, che ho comprato da East London, in Brick Lane. Mi piace la TV Fascia in Spagna. Le pantaloni sono i semi-jacche, la calza H&M e la scarpa in mezzo Martín Margiela. Io amo la TV Fascia in Spagna. Mi nome è Dean Walker, ho vestito di New Balance Trainers, ho vestito di Alexander Wang, ho vestito di Oxford, e le biazze sono le biazze sono le biazze sono le biazze. Io amo la TV Fascia in Spagna. Ho, mi chiamo Pablo, sono disegnante grafico, e ho vestito da parte 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 da parte. Io amo la TV Fascia in Spagna. Io amo la TV Fascia in Spagna.